Maxiris, attore del greco, la serie di Capodanno. Il video è diventato subito virale sui social, scatenando reazioni di profonda indignazione. Stando alla ricostruzione dei fatti effettuato dalle forze dell'ordine intervenute, si sono prese a botte due baby gang di Torre del Greco e del Colano. La scena, in zona vesuviana all'altezza dell'inclusio tra via Marconi e via Lungheria, di fronte a numerosi giovani presenti per i brindisi di fine anno. Probabilmente si è trattato di futili motivi, ma ancora non sono chiare le cause che hanno fatto scoppiare la rissa. Sembrerebbe che i giovani si siano addirittura picchiati con dei caschi, una scena di inaudita violenza che lascia sgomenti. La scena è stata una bella怎麼了. Lo attribuio di un gran lavoro di percorso tipo dipiezzo Grazie a tutti.